Allora Radio Radicale, Abubakar Sumauro, oggi hai presentato due proposte di legge, una che riguarda il diritto di cittadinanza, l'altra la legge sull'immigrazione. Allora che cosa chiedi e soprattutto pensi che possano essere recepite dal centro-destra le tue proposte che sono diciamo molto coraggiose ma forse non hanno speranza di avere un seguito? Senza il coraggio e l'audacia innanzitutto non saremo all'interno di una Repubblica nata e che ci ha dato questa Costituzione. I nostri padri, le madri postituenti hanno avuto audacia, ci hanno creduto e come si dice sempre l'amore vince sempre sull'odio e ci hanno regalato questo bel Paese e noi abbiamo oggi la responsabilità di continuare questo lavoro. Ed è all'interno del solco di questa prospettiva, queste due proposte di legge, quella sulla cittadinanza pone un discorso di giustizia, cioè chi nasce nel nostro Paese è italiano, chi cresce nel nostro Paese è italiano, chi risiede nel nostro Paese è italiano. Quindi i bambini nati, cresciuti nel nostro Paese sono italiani, più soli. E abbiamo un altro tema che riguarda quella dell'acquisizione della cittadinanza, cioè oggi se una cittadina che si chiama Maria, che proviene dalla Romania, cittadina comunitaria, fa la domanda della cittadinanza, le bastano quattro anni di residenza per fare la domanda della cittadinanza. Mentre abbiamo Khadija, Aisha che viene dal Marocco, piuttosto Miriam che viene dall'Equador o Fatima che viene dal Senegal, le viene chiesto dieci anni. C'è una questione di ingiustizia e quindi la mia proposta di legge stabilisce quattro anni di residenza per entrambi per avere accesso alla cittadinanza. In più, poiché il tema dell'istruzione e della formazione, il requisito, quindi l'attestato di iscrizione a un percorso universitario, se non di formazione professionale, dà anche la possibilità della cittadinanza. Sul versante dell'immigrazione c'è lo strumento che riguarda la lotta al capolarato, cioè chi denuncia situazioni di sfruttamento o di capolarato ha un permesso di soggiorno che viene inserito all'interno di un percorso di formazione professionale, quindi di reinserimento nel mercato del lavoro all'interno della legalità. Il tema dei contributi pensionistici, cioè i temi di previdenza sociale, lì c'è una ingiustizia che non fa il suo nome. Cioè questi lavoratori, queste lavoratrici nel nostro Paese, quando decidono di ripartire in assenza di un accordo bilaterale, non riescono a recuperare i contributi. Quindi queste proposte nascono all'interno di una rete di cittadini italiani senza cittadinanza, di migranti, imprenditori, di lavoratori, studenti, come lo dimostra la presenza oggi qui. Quindi restiamo convinti che queste proposte diventeranno legge nel nostro Paese. E il referendum? L'ultima cosa, il referendum, ma due secondi, il referendum. La domanda sul referendum, che ne pensi del referendum? Allora, noi siamo convinti, siamo dell'idea che occorre intervenire sui tempi, quindi giusto ridurre gli anni per ottenere la cittadinanza. Da 10 a 5, io nella proposta di legge ho posto 4 anni, ma c'è un problema che riguarda i requisiti, che rimangono sempre difficili da raggiungere. Ed è per questo motivo l'intervento per via legislativa parlamentare ritengo che sia importante ed irrinunciabile. Grazie. Grazie.